Da noi credevamo a noi crederemo, l'imperfetto diventa futuro, un film su risorgimento diventa la chiave di lettura della storia contemporanea. Il film è quello del regista napoletano Mario Martone ed è proprio lui, ospite del Festival Frontiere, la prima volta ad offrire attraverso il risorgimento minore del suo discusso film senza cavure Garibaldi, un punto di vista nuovo, una nuova frontiera del passaggio storico da cui 150 anni fa nacque l'Italia Unita. Introdotto dal critico cinematografico Oscar Rierussi, ideatore di Frontiere, Martone ha spiegato al pubblico dell'ex Palazzo delle Poste di Bari che non voleva un film spettacolare, ne voleva tentare di ammodernare il risorgimento con un linguaggio cinematografico moderno. Noi credevamo è stata piuttosto una ricostruzione rigorosa, documenti alla mano, del risorgimento di uomini e fatti che non compaiono nei libri di storia. Lo stesso attentato a Napoleone mostra per la prima volta il risvolto di 8 morti e 150 feriti tra la folla innocente di Parigi. Quello, ha commentato Martone, fu l'inizio del terrorismo, un episodio simbolo, quasi una seduta psicanalitica che, ripescando traumi dell'infanzia, aiuta a capire problemi del presente.